Siamo in un momento molto critico, molto particolare e ci rendiamo conto della necessità di dover fare tutto il possibile per combattere con anche nuovi strumenti la violenza sulle donne. Sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del questore nell'Arettino nell'ambito delle violenze domestiche, dei maltrattamenti, degli atti persecutori. Si è passati da meno di 20 nel 2022 a oltre 30 nel 2023. Si tratta di un atto amministrativo che viene firmato dal questore, notificato alla persona che maltratta, perseguita o peggio ancora mette le mani addosso a qualcuno. È un provvedimento amministrativo che richiede un'istruttoria particolare, un'istruttoria accurata. Vengono sentite eventualmente anche persone, diciamo, oltre all'interessata, che hanno notizia del comportamento che è stato posto in essere. È una misura introdotta dalla legge 69 del 2019, meglio conosciuta come Codice Rosso, e di fatto rappresenta un avvertimento perentorio a interrompere una condotta che ha rilevanza penale. Viene spiegato al soggetto che è ammonito il disvalore sociale del comportamento che ha posto in essere, facendogli capire che è un comportamento che è previsto dal Codice Penale come un comportamento reato. Purtroppo le cronache di questi giorni ci confermano che anche in caso di ammonimento la violenza si consuma. Un maltrattante tende a replicare il suo comportamento, se lo interrompe con la compagna sulla quale siamo intervenuti, tende a replicarlo su quella che verrà dopo e quella che verrà ancora dopo. Quindi un uomo maltrattante che abbiamo recuperato, quattro donne che, diciamo, non subiranno esatto violenza. Quindi ci crediamo fortemente. Possiamo dire che con la forma e il provvedimento dell'ammonimento, io ne ho firmati diversi, Arezzo forse tanto tranquilla non è e quindi ecco che sorge l'esigenza, nasce l'esigenza di trovare tutte le possibili partnership per combattere il fenomeno e l'abbiamo trovato nel CAM. Il CAM, Centro Accoglienza Uomini Maltrattanti a Sede a Firenze, è con loro che la Questura di Arezzo ha firmato un protocollo di intesa nelle scorse ore. Gli uomini che ricevono un ammonimento possono dunque, ma solo volontariamente, rivolgersi a questa associazione. Un percorso di recupero che è quindi possibile, anche se al momento solo il 2% degli uomini sceglie di intraprenderlo. Sono gli uomini che sono intorno a noi, sono i nostri fratelli, sono i nostri cugini, sono i papà degli amici dei nostri figli e quindi non dobbiamo parlare di mostri, ma dobbiamo parlare degli uomini intorno a noi.